questa è la passione e vi do appuntamento al 23 in piazza San Giovanni in piazza San Giovanni vedremo se avremo perso le elezioni vieni, fatti un bagno di verità vieni tu alla diretta di domenica no, fatti un bagno di verità di una piazza, vediamo come ti accolgo va bene, grazie a Pepe Grillo grazie a tutti